Buongiorno, Robby! Ancora lui! Ma come? Frulla! Ma chi è questo Robby? Chi è Robby? Ve lo presento! È Robby Phillips! Riesce a fare tutto con semplicità estrema! Pensate, con soli tre accessori! Robby Phillips. Ogni giorno ti avvicino. Da Tufano, strada statale 87, chilometro 7, Casoria. Annuncio riservato a fiaffiuto negli affari. Fiat 126 bis, con un auto termico e sedili ribaltabili. Prezzo di listino ridotto a lire 4.950.000, interamente finanziati. E con sconto del 50% sugli interessi Saba, fino a 36 mesi. Allora, affare fatto! Dei concessionari e succursale Fiat Campania e Molise. Qui in casa siamo un po' allo stretto. Mi sembra di stare in una capsula spaziale. Vedo papà che lotta con lo sportello del bagno. Mamma, colpita dal paesile aperto! Ora sono prigionieri degli armadi. Basta con i nemici dello spazio! Aia! Qui ci vuole Rotobud! Rotobud è l'amico dello spazio. La serrandina è la sua forza. La casa è più bella e diventa più grande. Rotobud, la conquista dello spazio! In vendita da Casa Viva, via San Leonardo Salerno, abitate di Carlo Malafronte, scappati. Gioia Pels! Per ricordare. Cin cin! Per festeggiare. Viva la sposa! O semplicemente per stare insieme. Buon appetito! Gioia Pels! Gioia Pels di Salerno, lo spazio congegnale. Gioia Pels! Hotel del nostro tempo. Con i fruffru ai miei piedini ho tante righe e fiorellini sono più bella con i fiocchettini dei miei fruffru. Belli fruffru, belli fruffru. Fruffru, i sandali leggeri come le ali di una farfalla. È un prodotto? Silvana!